Io penso che quando giocano contro l'Inter ci sia sempre rispetto, onestamente sia se sei secondo in classifica sia se magari sei più indietro. L'ho detto tante volte, la Juventus è stata per noi un banco di prova importante che ci ha dato forza, sicurezza, ma è una partita che nella nostra mente è già archiviata e l'abbiamo dimostrato giovedì, giocando con grande impegno una partita che per tanti motivi potevi rischiare di non prendere con l'approccio giusto. Siamo in un buon momento tecnico e domenica dobbiamo continuare a far bene, a far punti su un campo difficilissimo perché sappiamo, io so, che possono bastare due passi falsi per tornare dove eri prima, quindi in questo da parte nostra c'è grande consapevolezza. Siamo all'undicesima giornata e vogliamo continuare a crescere. Io ce l'ho sempre avuto e ho tuttora un ottimo rapporto con Wes, parlo con lui tutti i giorni. Lui ha l'atteggiamento normale di un grande giocatore che vuole rientrare, è comprensibile, condivisibile, vuole rientrare, vuole rientrare il più presto possibile, la squadra sta andando bene, lui sa che può dare il suo contributo, io so che lui può dare il suo contributo, il valore tecnico non è assolutamente in discussione, quindi poi lo sapete, la mia considerazione per lui è di primissimo livello.